Buongiorno amici di Betitaliaweb, buon anno, prima puntata del 2021 e anche prima puntata della stagione 3 del nostro podcast sulle scommesse sportive. Vi avevo promesso molte novità grafiche e audio, purtroppo le andremo a integrare nei prossimi giorni, da lunedì magari, l'alternativa era non fare i podcast di oggi e di domani, però eravamo già d'accordo così e volevamo riprendere visto che non ci sentiamo dal 31 dicembre. Anche oggi vediamo tre free peak, parliamo di golf perché torna anche il golf, però vorrei iniziare, oltre appunto a farvi gli auguri di buon anno e a sperare che abbiate passato delle buone feste natalizie, volevo iniziare con i risultati di Serie A di ieri, intanto a livello statistico 9 over, 2 e mezzo e 9 gol gol, il campionato di Serie A continua a essere un campionato dove si segnano tantissime reti, 9 over e 9 gol gol, in 10 partite sono davvero tante. Continua a essere un campionato dove il fattore campo non sta dando tanto aiuto alle squadre di casa, magari anche il discorso del Covid e degli stadi vuoti, però finora abbiamo più vittorie in trasferta che quelle in casa. Comunque ieri una delle più importanti vittorie in trasferta è arrivata dalla Juventus sul campo del Milan, tra l'altro cala la quota Scudetto dei Bianconeri che torna a 3, però nelle ultime settimane ha continuato a calare anche la quota sull'esonero di Andrea Pirlo, ora a 4,50, non è bassissima però comunque segnaliamo che è in discesa. E a proposito di Esoneri, Liverani non è più l'allenatore del Parma, ora rischiano stroppa, dato a 1,45 per l'esonero e anche Giampaolo a 1,60. Tornando alle quote Scudetto, l'Inter rimane favorita anche dopo il passo falso di ieri Amarassi, i nerazzurri si giocano a 2,30 per la vittoria finale, sale invece il Milan che non perdeva addirittura da 27 partite ma il KO con la Juve basta per portare la quota dei Rossoneri da 3,70 a 5,25. A proposito di passi falsi ha perso anche il Napoli contro lo Spezia, la squadra di Guattuso sale a 15 di quota per la vittoria dello Scudetto e si torna in campo con la diciassettesima giornata dopo domani dal 9 all'11 gennaio, Roma-Inter è ovviamente il big match, la squadra di Conte apre favorita anche se di poco a 2,45 in trasferta all'Olimpico con i giallorossi che si giocano a 2,84. Venendo al programma di oggi ancora calcio con due partite di Primera Liga in Portogallo, siamo in campo anche in Turchia con Fenerbahce a Lianaspor, in Grecia con tre partite di Super League e anche in Spagna con sette partite dei 32esimi di Coppa del Re. Oggi però è finalmente tornato anche il tennis con l'ATP del Rey Beach e oggi c'è il nostro Gianluca Majer che sfida lo statunitense qualificato Ryan Harrison. L'Azzurro è sfavorito però a più di 2 di quota. Si gioca anche in Turchia l'ATP Antalya e in questi minuti sta giocando proprio il nostro Travaglia contro Kekmanovic, mentre il VTA femminile è impegnato sul cemento di Abu Dhabi. Basket Eurolega dalle 19 con 5 partite tra cui il derby iberico tra Barcellona e Valencia e a proposito di Spagna l'Olimpia gioca domani a Madrid e in Italia invece ci sono oggi altre due partite di Serie A. Ok KHL 5 partite al via in questi minuti alle ore 15, tra l'altro c'è un Insider, il nostro tipster sulla KHL, caldissimo, 8 casse di fila e vi ricordo che da oggi Insider con le sue giocate di KHL, basket italiano ed europeo e volley e anche Striker con le giocate di calcio sudamericano e i report quotidiani con i drop di quote e i flussi di mercato della nostra redazione che ogni giorno la nostra redazione ci prepara per aprire la giornata e fare un po' il punto della situazione, li trovate nel VIP di Betting Maniac, questa è una delle novità, tra l'altro abbiamo prolungato per qualche giorno la promozione di Natale che sconta del 50% l'ingresso al nostro servizio esclusivo dove ora lavorano 4 tipster perché oltre a me e a Morfeo con gli sport americani ci sono anche appunto Insider e Striker e le tips, i report della nostra redazione per ampliare un po' il servizio. Oggi c'è anche la volley, c'è un recupero di Superlega di pallavolo maschile, Monza Ravenna, padroni di casa favoritissimi sotto a 1,25 di quota. Andiamo velocemente a vedere i risultati come abbiamo chiuso lo scorso anno, la scorsa stagione, stagione 2 chiusa in profitto di 1.352 euro, 13,52 unità considerando 100 euro unità, poi ognuno deve giocare secondo le proprie disponibilità. Da luglio 2019 a oggi abbiamo un profitto di più 13.503. Come ci eravamo lasciati? Ci eravamo lasciati direi bene perché vi avevamo dato due giocate per il 31, due giocate incassate entrambe, quella dell'Osasuna e del Manchester United e poi la multipla di Serie A che non eravamo riusciti già a mettere nel podcast il 31 dicembre, però vi avevo detto nei prossimi giorni seguiteci sul sito, l'abbiamo messo sull'articolo di riferimento di Serie A con D'Artagnan e D'Artagnan ha preso un'altra multipla, questa volta 6,72 di quota, tra l'altro ha preso anche una bella quota 2,75 con l'X primo tempo tra Sampe e Roma, molto bene. Ieri invece avevamo dato una multipla sempre di Serie A come al solito tratta dallo studio di D'Artagnan, un po' più bassa rispetto al solito come quota, 3,02 e siamo stati un po' sfortunati perché avevamo messo insieme 4,20, l'over 1,5 dell'Atalanta che è tornato in campo segnando tre reti, la vittoria della Roma a Crotone che è arrivata e anche l'Under 3,5 a Torino. L'unico errore ci arriva dall'1x primo tempo del Cagliari, Sardi avanti dal ventesimo minuto fino al quarantunesimo, poi in tre minuti hanno concesso due gol al Benevento e ci hanno fatto saltare in modo clamoroso questa multipla. Comunque molto bene, speriamo di andare bene anche in questa stagione 3 che inizia appunto con le giocate di oggi. Due cose anche su Darius, anche lui arriva da un ottimo weekend, ha incassato quattro bei raddoppi sul calcio nel suo canale VIP, oltre a diverse idee centrate sul turno di Serie A dell'Epifania, ne vedete alcune qui in sovrimpressione. Sta riprendendo il tennis, come abbiamo detto, fra un po' arrivano gli Australian Open, Darius è già al lavoro su calcio e tennis che sono i suoi sport numero uno, trovate il link qui sotto per entrare nel suo canale free e poi se volete c'è anche il servizio VIP anche di Darius. Tra l'altro Darius per oggi ci dà una free pick. Chiudiamo con gli sport americani perché ieri non abbiamo dato nessuna free pick sull'Instagram e il Telegram di Betting Maniac, quanto abbiamo dato una giocata di Insider sulla KHL anche per iniziare a inserirlo appunto nel nuovo canale di Betting Maniac. Siamo però andati bene nel VIP, nella notte, in NBA diciamolo è stato un inizio difficilissimo di questa stagione, magari iniziata troppo presto, giocatori non ancora al meglio che addirittura non hanno fatto la pre-season, però questa notte siamo andati bene. Abbiamo fatto un 3-2, abbiamo preso anche la top pick statistica, era un doppio stake sui Milwaukee Bucks, meno 6,5 primo tempo, se non sbaglio hanno chiuso avanti di 23-25 punti, comunque è entrata senza problemi. Ok anche l'under a Orlando e la doppia con gli over a Miami e Golden State più 9,5, Golden State che ha perso però ha coperto l'handicap di più 9,5 punti. Ieri ci hanno fregato le probette invece, ancora bene però col College Basket 2-1 più un 4-2 nell'idea flash non a bilancio. Anche qui la doppia principale, doppio stake, entra grazie alle vittorie di Xavier e di Michigan, l'altra doppia invece non entra per colpa di Texas A&M che prende una paga assurda in South Carolina. Ok invece l'under tra Butler e Georgetown, sfida di Big East, mi aspettavo una sfida molto muscolare tra due squadre che però non sono ancora al 100%, soprattutto Butler e così è stato, ci sono stati poco più di 110 punti, vado a memoria. Comunque un'ottima giornata, anche oggi daremo le nostre free pick, tra l'altro si avvicinano i playoff di NFL con le wild card tra sabato e domenica, sei partite da non perdere, vediamo se riusciamo a fare una bella puntatina di recap e di anteprima sui playoff col nostro Morfeo e Sport USA News & Tips, non lo so, è ancora tutto in alto mare, nel caso uscirà o oggi nel tardo pomeriggio o domani sempre qui su YouTube. Va bene, 2021 torna anche il golf, sono molto contento perché il PGA è pronto per il primo torneo dell'anno, il Century Tournament of Champions, scusate, dalle Hawaii a Kapalua, tracciato par 73, molto lungo, visto che sono quasi 7600 yard, i green sono in Taifigol, Bermuda Grass. La lunghezza del tracciato rende importanti le statistiche di driving distance, ovviamente, seguite da quelle di approach, par 4 scoring, scrambling e l'immancabile patting. Come ho detto però qui, occhio ai grandi colpitori, a chi ha un grande corpo. Oggi ho scelto 9 possibili vincitori nel VIP di Betting Maniac, come sempre li ho divisi tra favoriti, tra quote di valore e tra long shot a quota alta e ve ne riporto come al solito 3, andiamo a vedere anche in grafica. Il favorito è anche il favorito dalle quote dei bookmakers, quindi sono d'accordo su Justin Thomas a 8, un po' bassina la quota, però ci sta perché è il campione in carica di un torneo che ha vinto due volte e dove ha chiuso terzo anche nel 2019, quindi JT, uno dei migliori giocatori al mondo, tende anche a iniziare forte l'anno, quindi proviamolo a prendere. Come quota di valore segnalo Patrick Antlai a 19, un paio di mesi fa ha vinto a Sherwood, lo scorso anno in questo evento giocò per la vittoria, una vittoria però rovinata da una terza giornata davvero pessima, altrimenti avrebbe potuto portare a casa questo torneo. Speriamo possa rifarsi, ha quasi 20 volte l'apposta per me a valore. La quota alta, che però è ben lontana dai nostri standard, visto che spesso andiamo anche in tripla cifra col golf, non è altissima in verità, però qui a Capalua di solito non vincono giocatori sconosciuti, è anche il torneo dei campioni non a caso, il field è ristretto a 42 giocatori invitati. Io come quota alta gioco Cameron Smith a 36, Smith negli ultimi tre anni è stato uno dei giocatori più costanti, a gennaio dello scorso anno ha vinto il Sony Open, è un altro che tende a iniziare molto bene le annate, nel 2018 ha chiuso diciassettesimo nella sua unica partecipazione qui a Capalua, però ha tutte le caratteristiche per fare bene su questo tracciato e ha anche tre anni in più sulle spalle di esperienza rispetto a quel suo primo esordio. Quindi queste sono le mie tre scelte per il golf, tre scelte in free pick. Veniamo ora alle giocate per oggi, come anticipato Darius ci dà una tripla, una mix tennis e calcio tra oggi e domani a 2.15 di quota, Song Wu Con contro Corda, andiamo con il No 2.0, poi aggiungiamo per quanto riguarda il calcio Fenerbahce Allianaspor over 1.5 e Mönchengladbach Bayern Monaco di domani over 2.5. Iniziamo quindi dal No 2.0 di Song Wu Con, parliamo di ATP del Rey Beach di tennis, questa notte a mezzanotte, giochiamo almeno su un set vinto dal giovane e promettente giocatore americano Sebastian Corda contro l'asiatico Kwon. Darius aggiunge poi l'overino tra Fenerbahce e Allianaspor in Super League, si gioca oggi alle 17, almeno due reti ci stanno, l'over 1.5 è risultato vincente in sette degli ultimi 8 precedenti tra queste due formazioni turche. E infine chiudiamo in Bundesliga, domani sera alle 20.30, bella sfida, Borussia Mönchengladbach contro Bayern Monaco dove giochiamo su almeno tre reti totali, l'over 2.5 è sempre stato vincente negli ultimi sei precedenti di campionato e in 14 delle ultime 16 partite disputate dai bavaresi in Bundesliga. Come seconda giocata andiamo con Insider in Eurolega, Baskogna CSKA Mosca over 155,5 punti a 1.76. Clyburn e Hackett non dovrebbero essere in campo per il Seska, il Baskogna in casa potrà quantomeno giocarsela anche se più che il più 5.5 dei padroni di casa con handicap il nostro Insider preferisce l'over. Baskogna arriva da una partita da 186 punti totali a Berlino, in Eurolega segna 78,4 punti di media, dall'altra parte la capolista Seska ha faticato in over time a Milano nell'ultima uscita, partita in cui abbiamo visto comunque 178 punti totali. Il Seska ha un attacco che viaggia a quasi 83 punti di media in Eurolega, quindi linea 155,5 assolutamente alla portata anche se è altina per gli standard europei. Chiudiamo con l'ultima giocata sempre di Insider in KHL, Dinamo Riga, Dinamo Minsk l'ultima partita in programma oggi, un paio di giorni fa a Riga la Dinamo ha vinto 5-4 contro la Dinamo Mosca, tra l'altro noi eravamo anche andati in cassa con l'over di quella partita, oggi il nostro Insider ci propone un altro over anche contro la Dinamo Minsk, squadra che arriva da 3 partite ad alto punteggio in cui abbiamo visto la bellezza di 8,3 gol totali di media. Nelle ultime 7 partite della Dinamo Riga, tanti gol anche in questo caso, 7,8 di media, speriamo di vederne almeno 6 per incassare questo over. Noi siamo arrivati alla fine, qui in sovrimpressione vi lascio un attimo il rendiconto, il resoconto delle giocate che abbiamo fatto oggi anche perché molti mi avete detto non sempre riesco ad ascoltare tutto il podcast e allora vi basterà andare avanti, magari lasciarci lo stesso mi piace che male non fa e non costa nulla, andare avanti fino in fondo alla puntata e poi ritrovare il riassunto delle giocate diciamo, un po' per comodità. Va bene, io vi ringrazio, noi ci ritroviamo domani, non so se ci ritroveremo oggi pomeriggio per parlare di football e NFL, non credo a questo punto, comunque staremo a vedere. Noi ci ritroviamo sicuramente domani per la seconda puntata della stagione 3, la seconda del 2021 ma è già l'ultima puntata della settimana e quindi ci sarà D'Artagnan, lo studio sulla Serie A e tutte le giocate sia del venerdì che del weekend di calcio, quindi non mancate, io vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro una buona giornata, fate buone scommesse ma puntate sempre con la testa, ciao!